buon pomeriggio eccoci online abbiamo avuto un piccolo problema di corrente elettrica è saltata la corrente un attimo prima che iniziasse la diretta quindi c'ho da reimpostare tutti quanti comandi solo un attimo è il tempo di mettermi la chat i partecipanti vedo che ancora state entrando quindi avanti ancora e le domande e la chat eccola qua perfetto quindi io direi che possiamo iniziare siamo un minuto di ritardo quindi ci può stare un minuto di ritardo ok spero che si senta che si senta tutto perché è saltata corrente non vorrei ci sia qualche qualche problema di audio qualcuno mi può dare conferma tramite la chat tramite la sezione domande che si sente tutto bene si vede perfetto mi confermano che è tutto a posto benissimo benissimo a questo punto oggi parleremo di funzioni di ripartizione una delle cose più importanti che io ho imparato nel corso di tanti anni di lavoro sui mercati e sui derivati in generale prima di parlare di questo però voglio ricordare la formazione che fa bancasella e soprattutto la l'offerta speciale che fa per i nuovi clienti che aprono un conto derivati con bancasella queste sono le commissioni in promozione sull'idem sono 2 euro e 50 per future ed opzioni sul micro future 0,80 centesimi sull'eure invece per quanto riguarda lo stocks 2 euro e 50 opzioni e future e per quanto riguarda il dax 3 euro opzioni future inoltre i micro future tutti quanti a 1 euro e 90 sul cme invece sono commissioni da 3 dollari e 50 per tutto future sul mini future sulle sul nasdaq su mini smp opzioni su questi sulle commodite su tutto quanto e i micro future a 2 dollari per avere queste commissioni dovete contattare davide monte o stefano bellavita oppure l'assistenza trading o il numero verde di sella io a questo punto partirei con il solito messaggio messaggio di benvenuto così scoraggio quelli che magari hanno poca voglia di apprendere poca voglia di di aumentare le proprie competenze questa è una cosa che ve la leggete con calma in due secondi tanto si legge io arrivo solo alle conclusioni qual è l'obiettivo sopravvivere ai mercati imparandone le regole praticamente il concetto di fondo a questo qui la sopravvivenza dei mercati ai mercati imparandone le regole di fondo perfetto a questo punto questo lo possiamo abbassare fatto una candelina niente male l'S&P 500 con tutti quanti i sottostanti al dato che è uscito poco fa e cominciamo con la nostra descrizione delle mappe monetarie e della funzione di ripartizione tolgo la parte tolgo la parte video perché non serve più il ruba una parte dello schermo e chi vuol fare domande può tranquillamente scriverle piano piano risponderemo a tutte quante come tutte le volte verrà registrata la puntata e poi resa disponibile sul canale youtube quindi iniziamo partiamo con il dire che operare con coerenza sui mercati finanziari è un'impresa tutt'altro che facile sono necessarie particolari competenze particolare abilità e la cosa brutta è che le competenze e le grandi abilità non sono sufficienti a farci guadagnare una delle più grandi difficoltà che si ha quando si entra sui mercati finanziari è quella di azzeccare la scelta del giusto timing di ingresso il giusto stop loss dove mettere il target price ci sono tante variabili che rendono tutto veramente scivoloso a volte succede che poi entriamo in anticipo a volte non entriamo affatto e perdiamo e crediamo di aver perso il treno una cosa che però deve rimanere in testa a tutti quelli che operano sui mercati finanziari è che i mercati sono assolutamente incerti e imprevedibili non c'è niente al mondo che possa darci o dirci la direzione di un prezzo a destra del grafico non esiste al mondo tutto questo che succede porta porta gli operatori a coltivare spesso dei degli errori dei dei bias cognitivi che sono esattamente delle scorciatoie di pensiero che con in modo semplice cercano di spiegare senza fatica senza impegno avvenimenti le cose che avvengono sui grafici e di brutto che alimentano false credenze che portano solo a vicoli ciechi quindi nel mondo del trading tutto quello che è metodo previsionale ovvero cercare di capire dove andrà il mercato e dare un target dare dire dove andrà è semplicemente un errore di giudizio perché il trading è tutta un'altra cosa l'analista può fare la previsione ma l'analista normalmente fa l'analisi non opera perché se operasse vivrebbe poco delle sue analisi e delle sue previsioni il trading è solo gestione dell'incertezza chi opera con gli strumenti lineari come sono i future come le azioni purtroppo tende a vanificare il proprio obiettivo magari da stop loss troppo stretti oppure da martingale eccessive che lo espongono a dei rischi mostruosi chi opera invece con le opzioni che sono strumenti non lineari per eccellenza ma che hanno delle variabili che sono certe ma cioè le variabili certe non esistono le variabili incerte che modificano tutte le strutture e il pricing delle opzioni la implicita ovvero la volatilità su tutte si espone spesso a rischi che difficilmente riesce a calcolare a priori l'unico parametro che è impossibile da calcolare avendo noi un'opzione che ha una data di scadenza uno strike un prezzo del sottostante l'unico parametro che non riusciremo mai a calcolare in anticipo è la cosiddetta volatilità implicita ovvero la volatilità che modifica sensibilmente il premio e di conseguenza la reattività di un portafoglio quello che voglio vedere oggi è la funzione di ripartizione perché con la funzione di ripartizione applicata ai mercati finanziari soprattutto quelli dove ci sono opzioni ci permette di individuare con relativa certezza una parola grossa con relativa tra virgolette certezza aree di prezzo dove io so per certo che le volatilità implicite potrebbero fare qualcosa aumentare o diminuire e in questo modo io che opero su strumenti non lineari come le opzioni ho modo di lavorare con coerenza un il mio profilo di rischio nel portafoglio e avere queste informazioni permette di vedere realmente i trigger ovvero le aree di prezzo dove il mercato tenderà a reagire come ha fatto prima quel movimento di prima un movimento impulsivo dovuto a entrate in ricopertura di operatori che erano esposti su un determinato tipo di opzione corta di gamma in questo caso il lato call infatti quando il mercato reagisce tende a movimentare il prezzo movimentando forti ingressi di future ed opzioni e partenze di trend oppure magari mentre si toglie i contratti addirittura indebolimenti dei trend in atto allora voglio fare una cosa qui su annota così si vede anche il cursore che mi si nasconde se no eccolo qua si vede benissimo bellissimo allora raffaele mi fa subito una domanda la funzione di ripartizione fa riferimento alla materia probabilità e statistica assolutamente no è una cumulata pesata di tutte le opzioni suddivise per call e put distribuita sul mercato per cui non c'è statistica ci sono realmente il peso del denaro che quel mercato ha in quel determinato momento a quella determinata scadenza la statistica qui non c'entra nulla le probabilità neppure perché noi non vogliamo prevedere vogliamo capire cosa succede al mercato se il mercato arriva a determinati livelli chi sono gli attori che dovranno lavorare o non fare nulla per cui magari il mercato rimane in tre di range se non fanno nulla ma se entrano con gli strumenti lineari potrebbe posto la slide decentrata perfetto adesso più di meglio allora io comincio sempre con la spiegazione di volumi ed open interest i volumi sappiamo che sono i pettegolezzi del mercato sono le chiacchiere sono i contratti scambiati all'interno di una sessione di borsa quindi non ci dicono nulla ci dicono che nulla non ci dicono molte cose ma una soltanto l'unica informazione è che a un dato livello di prezzo c'è un forte interesse fra due opposte controparti queste opposte controparti vincenzo pesate pesate in base alla media pesate in base alla media certo in base alla media chiaramente non c'è il pricing di ogni opzione per capire quella che è più influente a livello di gamma o meno ma queste sono cose un po troppo raffinate per questo genere di spiegazione queste le potremo vedere successivamente quando saremo andati oltre allora ritorno al nocciolo della questione quindi dicevamo che un volume ci dà una forte indicazione su sul fatto che a un dato livello di prezzo c'è un interesse fra due opposte controparti una che compra e una che vende per cui nell'immediato noi sappiamo che lì c'è interesse fra due operatori che hanno trovato il giusto prezzo il fair value il fair value è quello dove c'è una grossa concentrazione di volumi però non sappiamo se quel contratto se quel volume servirà per togliere la posizione servirà per metterne un'altra oppure non modificherà assolutamente nulla sul mercato dei derivati perché se è un contratto fatto da un day trader questo day trader fa un volume in entrata e un volume in uscita e zero open interest quindi un volume può essere apertura può essere scambio può essere chiusura di posizione e può creare o non creare nulla sull'open interest al contrario l'open interest diversamente dal dal volume rappresenta i soldi ovvero i contratti realmente rimasti al mercato ovvero il rischio che tutti gli operatori chi compra e chi vende ovvero l'assicuratore e l'assicurato hanno sul mercato e un volume si finalizza in open interest soltanto quando la borsa di riferimento chiude e fa il calcolo end of day quindi gli open interest ahimè non li possiamo vedere in tempo reale non esistono non esistono proprio perché è un contratto che diventa contratto nel momento in cui la borsa chiude quindi finché aperta la borsa quello venire potrebbe essere modificato a seconda di come viene scambiato a livello volumetrico quindi essendo posizioni rimaste realmente al mercato sono la vera risultante di denaro il denaro ricordatevelo sempre il denaro che dentro il mercato è qualcosa che si chiama rischio per cui è la risultante del rischio tra virgolette denaro di un operatore che ha comprato e di un altro che ha venduto non esistono open interest o contratti sono comprati o sono venduti è un mito questo qui che va va sfatato perché non esiste è proprio illogico basta pensarci un contratto per essere un contratto deve avere due controparti quindi ogni contratto che c'è sul mercato ogni volume che c'è è una contrattazione fra due operatori uno che compra uno che vende magari chi compra si è avvicinato di più al prezzo di chi vende quindi magari sposta il valore monetario più in alto o viceversa quindi l'open interest riguarda il numero di posizioni aperte in un dato momento su un determinato mercato se io vendo una call a un determinato strike a un e a una scadenza precisa c'è qualcun altro che ha comprato quella opzione viceversa per le put quindi quando si dice di leggere gli open interest come contratti venduti sul mercato delle opzioni è un po una forzatura non è una non corrisponde alla realtà è una forzatura perché leggerli dal punto di vista eh del venditore è un punto di vista pratico in quanto chi opera in opzioni lo sa perfettamente i venditori ovvero gli assicuratori essendo coloro che hanno incassato un premio si espongono ad un rischio e ai loro se questo rischio diventa reale devono attivarsi per coprirsi e utilizzano di solito le solite e conosciute tecniche di rollover e di edging allora avanti allora a cosa serve la funzione di ripartizione di fatto è una lettura specialistica una lettura specialistica che la fa solo chi opera con le opzioni la maggior parte dei trader soprattutto degli investitori non sanno neppure che roba è una catena di opzioni figuriamoci se sanno cos'è una funzione di ripartizione come parlare arabo in italia quindi non ci capirebbe nessuno a cosa serve ci aiuta a monitorare quelli che sono i rischi e le posizioni che hanno assunto tutti gli operatori di un determinato mercato su uno strumento dove su uno strike e su una scadenza è molto diverso da quello che è l'approccio classico dell'analisi tecnica dell'analisi fondamentale dell'analisi quantica ce ne sono di tutti i tipi adesso e secondo me il più è il più coerente il più logico di tutto questo approccio perché parti da un core business di base il core business del mercato è il denaro quindi io per capire le intenzioni degli operatori di un determinato mercato devo seguire giorno dopo giorno il percorso che fa questo denaro devo capire dove viene messo dove viene tolto da chi e perché e ho due domande a cui devo trovare una risposta come minimo ce ne sarebbero tanti tipi di domande la prima è quali sono le aspettative di questi operatori che movimentano flussi monetari sul mercato finanziario e la seconda domanda dove e in che quantità si trovano questi flussi monetari e quando questi attori questi operatori dovranno attivarsi per proteggere il proprio portafoglio allora partiamo sempre con la solita spiegazione che qualcuno già conosce perché è una cosa che ci che ci tengo molto a a finalizzare ovvero qui sono gli attori del mercato li divido in due categorie in due macro categorie la prima quella di maggior importanza quella che entra a mercato e ha degli obblighi che sono obblighi istituzionali ovvero sono i grandi operatori fondi loro devono entrare sempre long sui titoli azionari e devono utilizzare la componente derivata soltanto per coprire le posizioni che hanno a mercato quindi se in un dato mercato le quotazioni sono in crescita se il trend è forte se è solido ovvero se è un trend alimentato da questo genere di operatori si assiste a costruzioni di portafogli azionari da parte di questi investitori che acquistano normalmente put otm e a copertura spesso metto acquistano titoli azionari e a copertura mettono delle lontane put otm io qui ho fatto l'esempio classico di quella che la figura che ha un operatore istituzionale a mercato compra il titolo azionario e mette un tappo alla massima perdita normalmente oltre che mettere il tappo alla massima perdita mette un take profit vendendo una call a una distanza che lui preferisce questo questa vendita di call avendo il sottostante in mano gli permette di mitigare il costo che magari della put è abbastanza alto quindi avendo il sottostante semplificando dal massimo avendo il sottostante comprando put costruiscono una posizione che sinteticamente possiamo assimilare a una long call fine questo è quello che fanno gli istituzionali sono piuttosto monotoni nel fare le proprie attività finanziarie devono comprare l'azionario non possono vendere allo scoperto i derivati per obblighi contrattuali non possono lavorarli se non per protezione dei portafogli fine c'è poi una controparte degli istituzionali e sono di solito i cosiddetti edge found e i trader privati piccoli o grandi che siano ovvero coloro che per seguire il mercato è sostanzialmente venditore di opzioni quindi in un trend rialzista tenderà a seguire il mercato vendendo magari put perché queste put vengono comprate da questi operatori non so se avete fatto caso ma durante i rialzi i prezzi anzi le volatilità delle put otm aumentano soprattutto in questo periodo dopo il 2020 è un fenomeno molto molto ben visibile lo vedi lo si vede molto bene questo fenomeno e sembra una cosa molto strana perché manda in bagguardation tutti gli strike dall'atm alle otm questo perché perché gli operatori che entrano comprando il titolo azionario per seguire il rialzo comprano anche le put comprando le put dovranno aggredire con più forza il tasto ask quindi questo tasto ask non fa altro che amplificare la moneness di quella determinata opzione ovvero ne aumenta il prezzo ne quindi questa è la posizione speculare vende put per cui a rialzo ugualmente come l'investitore speculare come l'investitore istituzionale lui però vende put è la controparte chiaramente anche questo c'è questo genere di operatori come vedete ha una un grosso rischio perché se il mercato scende ma a toccare i loro strike loro devono in qualche modo attivarsi a proteggersi quindi ricapitolando i portafogli azionari vengono costruiti replicando fedelmente l'indice di riferimento l'altra volta abbiamo visto quello che fa JP Morgan con il suo ticker che ha preso 5 stelle da Morningstar nel 2022 ovvero comprano titoli azionari e coprono il rischio acquistando put poi abbiamo detto che la naturale controparte di questo genere di operatori sono soprattutto hedge fund e privati che per lavoro per professione operano in modo speculativo e sono quasi sempre venditori e cercano di cavalcare il trend che in quel momento è rialzista vendendo put quindi in un trend rialzista lo speculatore vende put e incassa i premi quando il mercato magari raggiunge un livello un livello importante poi li vedremo questi livelli quali sono succede che gli operatori istituzionali arrivati a target alleggeriscono i portafogli azionari e contestualmente mollano liberano le put comprate a copertura in attesa di che cosa in attesa di rientrare dopo ritracciamento dei prezzi su livelli più bassi per cominciare ricominciare a ricostruire nuove posizioni di portafoglio only long contemporaneamente che faranno tenderanno a costruire una strategia sintetica di long put mediante la vendita di future e l'acquisto di call otm ora io mi è saltata corrente voglio vedere se riesco a ritrovare se lo ritrovo ma non lo ritroverò aveva aperto il simulatore per far vedere queste cose ma l'ho l'ho perso vediamo un po se riesco in qualche modo a spostare ecco vediamo un po se sposto questo forse ce la faccio è tutto bloccato eccolo qua simulatore eccolo qua lo mettiamo di qua vedete ripristino documenti c'è stato proprio un problemino non ripristiniamo nulla cambiamo la data e mettiamo tutto oggi è il 14 novembre praticamente l'operatore istituzionale che fa compra il sottostante non rimane a rischio e compra a copertura la sua bella put e fa questa cosa qui normalmente vende anche delle call perché il costo questo costo qui lo vuole lo vuole alleggerire vendendo un qualcosa che è già coperto dal sottostante call venderà io la metto a casa una call 4.700 non so quanto vale il simulatore mi dice 103 con questa volata 105 quindi si mette in questa posizione una posizione del genere mettiamo 100 ecco così si vede più bello questa è la posizione esattamente assunta dall'operatore istituzionale al rischio chiuso vedete quello che succede invece nel portafoglio dell'operatore edger è questo lui è speculare per cui vende call vende put e è lui la controparte del del lato call quindi lui non ha problemi a rialzo ha problemi a ribasso quindi se il mercato dovesse scendere lui deve attivarsi per proteggere questa questa posizione tolgo la colpa che ci potrebbe creare più confusione che che altro quindi facciamo una simulazione che il prezzo mi arriva intorno a 3.900 al ridosso dei 3.800 questo operatore qui dovrà iniziare a proteggersi cosa potrà fare potrà magari come fanno stesso se credono che il ribasso non sia così forte vendere call sullo stesso strike e succede esattamente questo questa è la punta call sullo stesso strike prezzo 191 creano un'area di valore temporale un'area di valore temporale e rimangono in attesa di eventi se il mercato continua a scendere non fanno altro che a questo punto vendere anche la componente future che in questo la chiamiamo stock quindi a 3.900 noi vendiamo uno stock e 3.900 vuole il prezzo lui lo vuole di qua con la fretta non si fa nulla eccolo qua e ribaltano la posizione se il prezzo torna indietro ovvero risale e arriva a 4.000 magari alleggeriranno la componente la componente fiducia la componente stock e si riposizionerà oppla niente io non dovevo farlo questo è qui che devo togliere e si riposizioneranno in questo modo magari succede che il mercato va dalla parte opposta perché ultimamente ci ha abituato a dei dei movimenti veramente impulsivi da una parte all'altra va a 4.200 per dire quindi qui già dovranno pensare di coprirsi comprandolo a questo punto il il fusion quindi anziché vendere lo stock lo compriamo il prezzo non è 4.900 ma 4.200 se no sarebbe troppo bello vedete come lavorano in edging questo genere di operatori ora non finisce qui perché poi le tecniche sono tantissime c'è anche il rollover c'è anche la vendita ulteriore di call in questo caso ne potremmo vendere un'altra in modo che da creare un'ampia area di valore temporale che so potremmo vendere la 5.000 e adesso vale 34 e ci prendiamo un pochino di valore temporale questo fanno gli operatori istituzionali non fanno altre cose quindi è importante però capire quando lo fanno allora torno sulla slide quindi ero rimasto che di dire che quando il mercato arriva su certi livelli questo l'abbiamo già detto no no in un trend ribassito poi gli operatori concentrano la preparatività più sulle opzioni di tipo call che sulle put sulle put quando il mercato è rialzista sulle call quando il mercato è ribassista il rischio lo devono tenere dalla parte opposta di solito avanti quindi abbiamo detto che anche gli speculatori hanno le loro tecniche di copertura e soprattutto tendono a coprire il proprio rischio ogni qual volta il prezzo si avvicina pericolosamente come abbiamo visto negli esempi prima allo strike price interessato su scadenze lontane normalmente non viene fatto l'edging di fusion ma vengono fatti i rollover vengono fatti i rollaggi vengono spostate opzioni da una parte spostate su un altro strike magari più lontano o addirittura su altre scadenze su quelle brevi ovvero quella che potrebbe essere la scadenza di venerdì prossimo che è una scadenza mensile importante oppure già quella di dicembre del 15 dicembre che è già ricca di gamma e povera di vega ma ricca di teta cominceranno a utilizzare il future come servo sciocco ricordatevi questa parola che mi è stata consigliata da un vecchio trader di Bari che chiamava il future servo sciocco perché effettivamente il future si muove il prezzo ma viene utilizzato solo quando c'è bisogno di coperture il grosso del lavoro dei mercati finanziari è fatto su derivati il 70% delle contrattazioni sono fatte su opzioni e il 60-80% è fatto con ordini condizionati sui future che entrano ed escono provocando appunto queste queste sono plati curtosi se andate a vedere le distribuzioni qui vedrete una grande pancia di volumi e poi qui pochi volumi ma tutti direzionali qui sono scattati alla rottura di un livello per cui 4.400 vediamo un po' che potrebbe essere questo livello qui sposto il grafico con la turba e mi metto questa rottura 4.437 4.440 potrebbe essere stato un input da dove sono ripartite forti le ricoperture entrando chiaramente non short qui la pressione è sull'ASC quindi sono entrati long gli operatori ora vedremo un po' se il mercato avrà la forza di chiudere parzialmente questa plati curtosi e creare un'area di valore un fair value in quest'area qui avanti riprendo la slide quindi sulle scadenze brevi dove il gamma diventa una componente difficile utilizzano i future quindi se il prezzo si avvicina ad uno strike di call che rischia di diventare ITM il venditore di quella call dovrà entrare in copertura e in questo modo per entrare in copertura con lo strumento lineare o con le azioni che hai in portafoglio perché si può entrare con entrambi gli strumenti non è necessario chi fa i future lavora i future chi fa le azioni lavora le azioni e questo porta ad autoalimentare questo trend e in questo modo ricorregge appunto con il future o con le azioni il delta del proprio portafoglio portandolo da positivo a negativo da negativo a neutrale insomma come lui ritiene nel miglior modo possibile allora questa è una cosa banalissima la classificazione del mercato normalmente esistono tre tipi di mercato uno che è laterale swing uno che è ribassista uno che è rialzista i mercati che sono in trend ovvero che non sono laterali sono mercati che si chiamano di momentum le caratteristiche il mercato laterale si contraddistingue da prezzi che rimangono dentro un range dove il supporto supporta e le resistenze resistono e soprattutto la volatilità è costante al contrario il mercato ribassista ha forti oscillazioni del prezzo i supporti vengono rotti durante queste rotture aumentano in modo importante gli open interest dei future e aumenta anche la volatilità implicita sapete benissimo che il giochino sale il prezzo scende la volatilità scende il prezzo aumenta la volatilità il mercato rialzista invece è un mercato che ha oscillazioni di prezzo che vanno a rompere le resistenze anche qui c'è un forte aumento dei future che entrano a protezione chiaramente del lato call e di mandi in mano che entrano i future diminuisce progressivamente anche la volatilità implicita questo è quello che è un po' la spiegazione partiamo subito con la prima visualizzazione questi sono i totali open interest di oggi di S&P 500 guardate quanti contratti hanno messo a 4.600 chi ha seguito le evoluzioni si è accorto che gli stessi numeri di contratti ovvero 105.000 che per me sono numeri che in 20 anni non avevo mai visto entrare al mercato in 25 anni di lavoro su questi mercati di opzioni questo strike 4.600 ha uno strike 4.580 ovvero a 20 punti di distanza con gli stessi numeri quindi qui c'è una zona veramente enorme di call e questi sono i totali per cui non è niente di particolare in rosso sono le put in verde sono le call si vede che il mercato dall'estensione tralasciando questo strike che sballa tutto il nostro conto perché veramente è veramente immenso però si vede che l'area centrale 4.400 4.450 è l'area più o meno dove ci sono le famose ricoperture di put e call avvenute nel momento che il mercato ha fatto queste oscillazioni e i supporti più o meno sono a 4.300 4.500 e le resistenze poi dietro sono tutte costruzioni con tante put che finché non queste opzioni sono entrate mercoledì e giovedì della settimana passata prima non c'erano sono entrate tutte insieme poi vedremo quello che succede quest'altro invece è la famosa ripartizione vedete che la ripartizione è un grafico composto da due histogrammi uno verde e uno rosso quello rosso sono le put e quello verde sono le call e c'è un crossover un punto di incrocio di questo histogramma che è il punto che teoricamente rappresenta il fair value prezzato dal mercato delle opzioni ovvero il mercato delle opzioni sta apprezzando in questo momento un fair value attorno a 4.300 4.450 più o meno in questa zona qua si vede molto bene la corretta lettura di questo grafico ci permette di comprendere bene qual è il reale respiro di un mercato perché ci fa capire quando il mercato è dentro un range ovvero dove sono i suoi supporti e le sue resistenze e quando il mercato rotti i supporti o rotte le resistenze ovvero rotto quello che è il primo picco di call o di put poste al 40% di questo asse potrebbe far partire un trend per ingresso di future a copertura al ribasso copertura di future che premono sul tasto bid quindi tendono a far abbassare i prezzi e a far scivolare le quotazioni al contrario al rialzo per proteggere le call quindi premono sul tasto ask e tendono ad autoalimentare il rialzo queste aree sono poi contraddistinte da altre due aree io chiamo veloare 80 dove ci sono l'80% di put e l'80% di call allora questa è l'area di indifferenza questa è l'area di trend all'interno tra veloare a 40 e veloare a 80 a 80 normalmente per esperienza per cui è solo una conoscenza empirica questa che non c'è statistica non c'è niente ma ogni volta che il mercato è arrivato a toccare il livello più 80 o meno 80 ovvero dove ci sono l'80% di put o l'80% di call si assiste a quello che è il fenomeno dell'iper coperto ovvero iper comprato nel caso del lato call iper venduto nel mercato del lato good una volta che il mercato arriva a 80 c'è poco da coprire quindi di solito quando arriva su questi livelli il trend rallenta non è più impulsivo e forte come prima non ha più momentum perché i future quelli che dovevano entrare sono tutti entrati c'è rimasto poco da coprire quindi la spinta che avrà il sottostante sarà veramente veramente poca non avrà più forza come prima e quindi chi è un pochino arguto qui già capisce che tipo di operazioni fare in queste aree e che tipo di operazioni fare nelle altre allora ancora con la ripartizione allora riapprofondiamo il concetto abbiamo detto che la ripartizione ci permette con questo grafico di capire in quale delle tre fasi di mercato ci troviamo io qui l'ho scritta così si capisce meglio l'ho messa in verticali così si capisce anche il prezzo dove può andare e dove non può andare quindi abbiamo detto che il crossover rappresenta la zona di indifferenza e questa zona di indifferenza anche io qui in modo empirico lo dico perché non ho statistiche io sono 25 anni che le faccio queste cose però le ho sempre viste far così hanno sempre lavorato in questo modo finché rimane il mercato tra vello area meno 40 più 40 più o meno si può parlare di trading range supporti e resistenze come il mercato rompe sulla vello area più 40 si parlerà di momentum rialzista di trend rialzista sulla vello area meno 40 si parlerà di trend di bassista chiaramente le rotture devono essere eseguite da forti aumenti di future perché se non entra il future non entra una componente lineare il rialzo non può avvenire non è che avviene perché io ho comprato o venduto delle opzioni le opzioni sono oggetti oggetti che vanno protetti ma non sono loro stessi autrici di trend loro non parlano di trend è una posizione ferma messa lì mesi settimane addirittura anni prima perché le scadenze sono fino al 2027 addirittura allora questa funzione di ripartizione offre ha offerto negli anni tanti casi di studio che si sono sempre risolti come li sto spiegando adesso e soprattutto ha fatto vedere che il mercato reagisce ovvero a delle caratteristiche ricorrenti noi sappiamo che l'open interest è esattamente il numero di contratti future opzioni che siano sia long che short che vengono aperti in un determinato momento temporale noi sappiamo che sono la somma di tutte le posizioni di mercato sia di chi compra che di chi legge e quindi per leggere correttamente tutto quanto è necessario sapere che il mercato delle opzioni offre a chi lo sa leggere una cosiddetta tipizzazione ricorrente e questo permette di operare con molte più probabilità a favore che non leggendo altre analisi che possono essere le medie mobili quello che vi pare insomma quello che in ora viene prodotto dall'industria finanziaria allora come funziona il giochino allora io l'ho fatta molto semplice però per spiegarla meglio ci sono altre serie e altri posti tra l'altro se venite sul sito c'è tutto un videocorso gratuito dove parliamo appunto di MC4 che è la money chart a 4 variabili che fa appunto riferimento a questa funzione di ripartizione agli open interest dei future agli open interest delle opzioni è come incastrare e leggere insieme alla volatilità e al prezzo allora noi sappiamo che un movimento che è associato ad un aumento di open interest del future vuol dire che c'è forza quando aumentano gli open interest e aumenta il movimento di prezzo c'è forza nel trend al contrario un movimento dove c'è riduzione dei contratti future vuol dire che c'è incertezza ovvero che c'è bisogno di ancora conferme quindi il trend deve essere seguito opportunamente da un aumento di open interest se il trend è rialzista gli open interest devono aumentare nelle fasi di rialzo durante le correzioni dovrebbero diminuire allo stesso modo in un trend ribassista gli open interest aumentano di mano che il prezzo rompe i minimi rompe i livelli di minimo e soprattutto il ricorso al future è richiesto quando vengono rotti livelli monetari particolarmente pieni di opzioni oppure nel caso del ribasso o nel caso del rialzo e questi livelli per noi che facciamo opzioni e leggiamo i mercati con i soldi con il denaro guardando il denaro sono facilmente visibili sia nei totali che nella funzione di ripartizione quindi questa analisi ci permette di individuare sia i segnali di forza che di debolezza di un mercato ma soprattutto ci fa capire quando un mercato e dove un mercato dovrà reagire per effetto delle azioni di ricopertura ovvero degli ordini condizionati che gli operatori hanno preventivamente messo e ne so abbiamo visto che c'è uno strike di call 4006 sul mercato che è veramente enorme quando il mercato arriverà lì qualcuno dovrà coprire e questo qualcuno dovrà attivarsi soprattutto sulla scadenza di dicembre che è già a rischio gamma attivarsi entrando con la componente future quindi se ci sarà forza ci sarà uno strappo enorme se non ci sarà forza il prezzo tenderà a rientrare all'interno della propria funzione di ripartizione avanti quindi io l'ho chiamato rimanere coerente con il mercato perché è importante quando si mettono i propri soldi al mercato essere coerenti con quello che succede non sul prezzo perché il prezzo è soltanto la superficie del mare noi non sappiamo sotto al prezzo cosa sta avvenendo se guardiamo solo il grafico dei prezzi e quindi la lettura dei volumi la lettura degli open interest dei future combinata con la volatilità servono per trovare e mantenere una coerenza operativa di proprio portafoglio quindi fa un esempio se sul mercato la ripartizione va a toccare come sta avvenendo adesso sull'S&P500 ma anche su altri mercati sulla scadenza novembre sono arrivati addosso e l'hanno superata a toccare il 40% di call e se su quel livello di prezzo le movimentazioni di volumi aumentano e questi volumi diventano open interest è importante se io ho una strategia che magari prezzava ribasso che comincio a girarla quella strategia perché sto per prendere in faccia probabilmente un trend è chiaro che prima della partenza di un trend ci sono sempre tanti falsi segnali poi quando è partito è partito però come succede questo chi ha una posizione delta negativa sarà il caso che un attimino la porti un pochino meno delta negativa o perlomeno la positivizzi o la neutralizzi oppure oppure se sul mercato il trend rialzista va a toccare il 70% l'80% di colitm vi assicuro che succede spesso come è successo se non ricordo male a luglio di quest'anno hanno toccato l'80% l'83% è successo che i future che hanno sostenuto quel trend sono diminuiti a quel punto uno può pensare di operare contrarian ovvero modificare il proprio delta da positivo a negativo e magari prepararsi a una possibile inversione è importante sempre ricordarsi un fatto l'ho messo per ultimo l'ho scritto maiuscolo quando i future vedono aumentare i propri open interest è probabile che le volatilità sia storica ovvero quella delle candele che è implicita quelle delle opzioni abbiano ripercussioni ovvero aumentino questa è una foto che ho fatto stamattina ce l'ho comunque tutte in tempo reale le possiamo vedere questo qui è il grafico dell'S&P 500 scadenza dicembre al quale ho applicato tutta la scende le opzioni put e call vedete come il mercato ha lavorato all'interno di questo range 4.450 ora la candela è un pochino più su perché non è a tempo reale e poi 4.150 dove c'erano tante put che sono state coperte vedete future che salgono mercato che scende mercato che riprende forza i future vengono alleggeriti perché non c'è più bisogno del servo shock poi a un certo punto a questo livello qualcuno si sente a qualcuno il portafoglio comincia a scottare hanno cominciato a rimettere dentro future c'è stato un aumento della componente future bello netto che fa capire che qualcuno doveva coprire il lato call quindi adesso da tendenza di bassista a tendenza di range quando il future diminuisce vuol dire che c'è ritracciamento non trend quando il future aumenta vuol dire che potrebbe partire un trend quindi è facile che da qui in poi ci sia una partenza di un trend queste sono i totali invece la ripartizione eccola qua la ripartizione ci fa vedere che è un mercato dove veloare a 40 ovvero il 40% di put si trovano più o meno a 4050 il mercato non c'è mai arrivato è arrivato al massimo a toccare il 27,8% di put il 30% e veloare a 40 questo sulla scadenza dicembre ce la troviamo esattamente a 4.600 dove c'è quel livello abnorme di call che hanno un pochino sfalzato la nostra lettura noi sappiamo invece che prima dei 4.600 abbiamo un bel livello che è 4.500 dove per romperlo c'è necessità di entrare con tanti future perché sono 25.000 930 contratti metti e qui qualcuno dovrà per forza usare il future e qui vedremo magari di che passo è fatto il mercato se ce la farà alla prima o se come succede spesso farà un doppio massimo per cui proverà a rompere verrà mandato indietro e poi boom per effetto del fatto che il gamma sarà sempre più pressante più ci si avvicina scadenza e qui manca veramente poco manca un mese quindi sapete che dopo 20 giorni la scadenza il gamma comincia a essere veramente fuoco in un portafoglio venduto di opzioni quindi qui devono proteggersi è facile poter vedere forte accelerazioni fino a dove arriveranno non lo so il target potrebbe essere 4,6 dove c'è il 40% ma se vedete più in alto ci sono altri livelli che potrebbero rappresentare ora li voglio far vedere direttamente qua sul grafico eccoli qua allora prendiamo il grafico dei totali open interest io ho 4 sottostanti ecco prendo l'S&P 500 come esempio così lo vediamo per bene se poi volete vederne qualcun altro oltre all'S&P 500 scrivete uno si guarda ecco sono arrivati esattamente dove avevamo detto 4.500 ma che forza sto mercato veramente incredibile un mercato così forte impressionante qui vediamo un po' di che panni si vestono perché da qui in poi secondo me potrebbe partire un trend veramente forte che potrebbe travolgere tutte le posizioni short qui però per romperlo c'è necessità che i future aumentino ieri per esempio dopo l'aumento dei giorni passati vedete tutti i verdi sono gli open interest hanno nella giornata di ieri su questa candelina piccolina di attesa hanno alleggerito chiaramente domani se verrete a leggere le analisi ve lo dico qui subito i future sono aumentati per forza non possono essere diminuiti in una salita del genere per cui vedremo un altro aumento della componente future fuzzi mib non ce l'ho ce l'ho da un'altra parte il fuzzi mib ve lo faccio vedere comunque ho perso tutti quanti i grafici eccoli qua eccoli qua fuzzi mib lo posso far vedere qua ma perché fate ancora il fuzzi mib è veramente un sottostante sconchiuso a strike a distanze lontanissime a 500 punti di distanza sulle scadenze lontane sulle scadenze vicine spesso gli finiscono gli strike allora vediamo dicembre che hanno fatto questi sono gli ultimi 21 giorni ripartizione mettiamolo bianco il fuzzi mib è bello è bello violento siamo già al 60% di ora non lo so quanto batte il fuzzi mib però ieri batteva mettiamolo in tempo reale la sottoscrizione vediamo un po' è una bella candelina siamo già arrivati al 66% negli ultimi giorni hanno dovuto ricoprire 28,5% con put e call adesso 29,5% è il primo livello di call nude e qui si potrebbe anche fermare si potrebbe dire 29,5% 30,000 rappresentano veloare a 80% in questo caso proprio un esempio banalissimo vediamo che hanno che cosa stanno preparando per il 17% ovvero la scadenza di questa settimana che è quella che è più ricca di gamma qui gli sono finiti gli strike a 31,000 non c'hanno più strike hanno già ricoperto i 30,000 qui non sentono storie guardate tutto ricoperto gran lavoro di put sotto al prezzo come dicevamo prima quando un mercato va in rialzo la maggiore attenzione è rivolta al lato put e le minori attenzioni sul lato call infatti le call 28,000 e 28,5% sono state ricoperte i future si vede bene anzi ve lo faccio vedere con meno giorni ne mettiamo solo 20 per me si vedono meglio i future sono aumentati come il prezzo ha toccato guardate come è preciso questo questo sottostante come ha toccato l'evoare a 40% dove hanno toccato il 40% di risottoscrivo in tempo reale quindi vediamo la candela di oggi come hanno toccato questo livello i future sono aumentati sono aumentati e ieri addirittura hanno fatto più 2,90 hanno rotto i massimi rispetto alle candeline dell'S&P 500 hanno rotto i massimi quindi è un mercato fortissimo che ancora è tutto in trend in trend che però 29,5 30.000 potrebbero essere dei livelli che una volta toccati vedete dopo non c'è niente dopo non c'è più bisogno del future questi future fra pochi giorni verranno mollati perché queste opzioni call 1200 qui 640 di qua scadranno i TM per cui verranno regolate in contanti quindi è inutile che vengono in future una volta che scade l'oggetto della copertura casomai verranno utilizzati per coprire qualcosa a dicembre magari potrebbe essere ancora presto ma già ora ci potrebbero pensare azioni di ricopertura anche su dicembre e quindi qui si vede molto bene con il Fibre ci ha dato un bel esempio andiamo avanti ho perso gli slide eccole qua eccole qua l'applicazione pratica eccola qui questa che era la ripartizione vista stamattina purtroppo ci è arrivato qua sul prezzo esattamente a questo livello che rappresenta il 30% di call i TM ma già da qui io ho visto che sono cominciati a entrare a entrare in copertura infatti sono entrati in copertura allora io poi ho preparato un caso di studio che è quello più eclatante di tutti qui è stato veramente una botta di violenza per quanto riguardava la lettura del mercato con le opzioni questo è il 2020 sembra una cosa mostruosa vero a vederla così e io se vado sul mio grafico dei prezzi di Banca Sella e metto il giornaliero e vado a cercarmi il 2020 mi sembra veramente una cosa percolina andiamo indietro eccolo questo è il 2020 lo rimpicciolisco avendo tutto ben visibile e lo riponizzo qua lo rimettiamo tutto più grande così se vede bene alla fine questa discesa che ha avuto in più delle altre discese guardate quest'altra qualche strada più profonda però l'estensione delle candele che fa adesso è più o meno simile a quella di allora è una cosa veramente incredibile quello che sta succedendo in questo momento e durante questo grande ribasso che è successo sul mercato io ai tempi avevo un piccolissimo sito web che avevo aperto addirittura nel 2015 si chiamava si chiamava swindle trading ancora funziona ancora è attivo non c'è più scritto che era successo era successo che tutto il rialzo che era partito dal lontano 2019 era avvenuto esattamente con le stesse modalità operative ovvero copertura per effetto di future e aumento di put sotto al prezzo c'è stato un lungo trading range tra 2.8 e 3.000 ha durato tante settimane poi a un certo punto il mercato ha rotto valutare a 35.40 i prezzi sono saliti per aumento della componente future questo per quasi un anno di fila poi a un certo punto si arriva a questa grande salita vedete che candeline piccole erano candele da 8 10 12 punti adesso le candele medie giornalere sono di 40 50 60 punti rompono continuamente le deviazioni standard come se non ci fosse un domani una roba veramente incredibile star dietro a mercati così complicati a un certo punto dopo le scadenze succede che i giorni le settimane prima vedete qui c'è questa questa salita questa salita è avvenuta con diminuzione della componente future e questo strappo che è avvenuto il il 17 di febbraio questo grande gap che è stato chiuso mesi dopo tanti mesi dopo è avvenuto perché gli operatori si sono dovuti ricoprire velocemente da tutte le scoperture che avevano alimentato il rialzo ovvero da tutte le short put che su ogni ritracciamento erano entrate vedete ritracciamento ritracciamento esattamente qui c'era una valanga di put sono state sono state ricoperte tutte quante e io qui ho preparato e poi che è successo il mercato è sceso è arrivato esattamente al cuore della ripartizione a zero ma il peso dei future era veramente tanto che lo ha portato addirittura a veluare meno 80 e qui è successa una cosa incredibile nel giro di pochi giorni hanno mollato quantità di future industriali tutto il rimbalzo che è arrivato fino a qua in questa area qui è avvenuto non perché hanno comprato il sottostante ma perché sono stati chiusi i future precedentemente entrati short per coprire le migliaia le centinaia di migliaia delle posizioni putte che andavano in itm l'hanno ricoperti l'hanno richiusi e hanno alimentato questo rialzo il mercato poi è rimasto in trend per tanto tempo dentro la veluarea zero all'interno dell'area di indifferenza ma tutto questo se lo volete vedere lo trovate addirittura io ho fatto le copie e incolla di questa roba qui 17 febbraio su nuovi massimi si inizia ad assistere alla chiusura e all'indemolimento della componente fiucia su tutti i sottostanti sul comparto opzioni vengono confermati i supporti con nuovi ingressi di putte ma vengono chiusi le call da questa lettura sembra che gli operatori era tutto un rialzo allora stiano perdendo interesse a stare a mercato ed abbiano invece iniziato a prendere profitto dalle numerose posizioni fiucia utilizzate a copertura contemporaneamente alla chiusura dei fiucia si verificano chiusure e rollaggi a strike più lontani sul lato call e sul lato put avanti ancora 25 febbraio lunedì in nero sull'emibo forte aumento della componente fiucia sp la componente fiucia è rimasta invariata ma sul comparto opzioni si assitta ad un aumento di call a strike insomma tutto quello che è la cronistoria il 26 febbraio gli histogrammi parlano da soli su tutti i sottostanti fuga sull'auto put e aumento di contratti fiucia alla copertura fase molto difficile e volatilità esplosa ed operatori presi in contropiede ma il 26 febbraio era ancora un mese prima dei minimi quindi era proprio l'inizio di questa grande discesa che ha fatto veramente pulizia di trader improvvisati e trader poco rispettosi del rischio mi dispiace ma è così chi ci ha lasciato i soldi ce li ha lasciati perché non ha tenuto conto dei rischi che stava avendo su quei mercati così folli che hanno veramente fatto da matto il 28 febbraio l'ho chiamato le big short ma ancora non era niente perché il 28 febbraio se andiamo a vederlo sulla sulla lo ringrandisco e ritorno indietro ritorno indietro vuol dire vediamo per bene dove era il 28 febbraio il 28 febbraio era questo quindi ancora da scendere ce n'era ce n'era di avvalanga di forza ancora da spingere e qui eravamo arrivati esattamente a velo ora 40 ve lo ricordo bene in quest'area e scrissi su questo su questo piccolo sito contraddistito da rottura di supporti sotto il peso della notevole quantità di contratti necessari alla ricopertura dell'equizzo la situazione è molto pesante stiamo a gran velocità arrivando agli eccessi ma fino a che i future continueranno ad essere utilizzati per coprire gli put la spinta ribassista è ancora troppo forte per poter azzardare gli anghi di prezzo io ricordo che a quell'epoca avevo a mercato dei semplici spread di put comprati sia sul DAX che sull'S&P e mi ricordo che anche che allora nonostante la volatilità non fosse arrivata ai massimi era impossibile chiuderli perché le piattaforme gli algoritmi che li regolavano erano impazziti mi chiedevano i margini per posizioni comprate pensate un po' io chiudevo la mia posizione ovvero ho una long call 12.000 sul DAX magari e vado a venderla mi chiedevano i margini e non c'era proprio possibilità di far nulla era una cosa incredibile infatti io qui do un raro consiglio operativo che non li do mai perché ognuno deve operare con la propria testa e con il proprio portafoglio al momento le migliori operatività vista la gran volatilità sono essenzialmente con opzioni in spread a debito da fare sia sul lato put per ulteriori affondi che sul lato call per possibili rimbalzi e infatti il prezzo ha fatto rimbalzi e affondi cioè qui a fare un semplice spread di call un semplice spread di put si portava a casa tanta roba poi che è successo è successo che il mercato dopo tutta la discesa a un certo punto si arriva al 24 di marzo su tutti i sottostanti europei con quel rimbalzo con quella croce rovesciata che non so come si chiama nel gergo tecnico delle candlestick la quantità numerica dei futures si è addirittura dimezzata è evidente il netto calo della componente future anche sul dazio insomma hanno iniziato a crollare i future in questa in questa area qui e hanno ricostruito tutto l'imbalzo in questo modo ora chi ha voglia io avrei finito tra l'altro basta che va su digita su indole trading eccolo qui ancora c'è tutta quanta la cronistoria qui ci sono addirittura le strategie operative le analime operative di questo piccolo sito cioè fino al 2015 comunque quindi vi andate a vedere e vedete che che po' di lavoro hanno fatto gli operatori in quel periodo proprio una roba tutto scritto tutto rimasto in memoria per fortuna per cui non si non si raccontano le frottole allora vediamo un po' che cosa si potrebbe fare prima di chiudere tutto quanto innanzitutto se c'è qualche domanda si possono guardare le posizioni in portafoglio che avevamo prima che oggi con questo rimbalzo non hanno goduto di certo perché sono posizioni che godono non tanto di rimbalzi ma di prezzi che devono rimanere in range e qui di range non c'è verso di vederli sono scadenze lontane per cui con un rischio gamma molto più basso del normale mettiamo il future giugno ecco mi hanno portato proprio a un livello che fra poco devo intervenire dovrò intervenire dovrò magari chiudere qualcosa alleggerire qualcosa che non serve e riposizionare tutto il rischio in un modo diverso perché il future di giugno batte 100 punti in più del future di dicembre ricordatevi di queste cose vediamo un'altra cosa interessante che non tutti riescono a sapere a conoscere la volatilità come si sta muovendo perché tutti dicono volatilità bassa volatilità alta guardate che storia strana questo è un differenziale dove io sto monitorando le volatilità come si sono mosse in verde c'ho le posizioni comprate e in rosso le posizioni vendute vedete che anche se la volatilità è calata è calata di più sulle comprate quindi per me è una rimessa mi dovrebbe calare necessariamente di più sulle vendute vediamo l'altra posizione sull'euro stocks 50 stocks 50 anche questo sempre su scadenza giugno è arrivato fuori da tutto è arrivato fuori di sentimento da quanto è salito il prezzo sono proprio arrivato qui c'è rimasto c'è rimasto anche qui da chiudere solo delle posizioni che fanno la zavorra perché è inutile che io vado a portare tutta la struttura qua qua le volatilità sulle euro stocks hanno fatto un lavoro leggermente diverso infatti vedete anche il guadagno è più alto il rapporto al capitale di riferimento che ho sull'S&P 500 qui uso 10.000 euro sull'S&P ne uso 50 e di margini qui ce ne ho credo vediamolo subito così non di margini qui ce ne ho 8.300 sul CME e 440 sull'Eurex per cui sono il 4% e mezzo sull'Eurex e il 16% sul CME quindi come figura è rapportandola con il rischio e il costo è messa meglio questa di S&P 500 dove l'ho messa l'ho persa eccola qua ecco 1 e 1 2 andiamo a vedere le volatilità di S&P 500 di Eurex nella fattispecie di Eurostox 50 abbiamo visto che sull'S&P 500 c'era una sorta di backwardation di strike ovvero gli strike più lontani avevano una discesa minore di volatilità invece sull'Eurostox vedete è diverso non è la stessa cosa che sull'S&P vi apro anche l'S&P che lo guardiamo insieme mettiamo uno sopra l'altro vedete vedete com'è diversa c'è una asimmetria positiva sul lato sinistro qui invece non c'è nessuna asimmetria le volatilità sono calate un po' dappertutto e quindi hanno un pochino di più aiutato la posizione allora Vincenzo mi fa chiudi gli spread in guadagno in perdita ma devo chiudere guarda l'esempio te lo faccio sull'Eurostox che ce l'ho qui pronto a portata di un anno e non lo scancello eccolo qua qui la miglior cosa secondo me è chiudere le 2.8 chiudere le 3.750 chiudere la 4.250 e mettermi così questa potrebbe essere la miglior soluzione mi metto così ho una spesa piccolissima che al momento dovrebbe essere poche centinaia di euro 225 euro sono comunque vega negativo ho sempre una certa area di valore è chiaro che diminuisco il vega negativo da una parte va bene perché magari è il momento buono che ti fanno un ribasso dopo questo rimbalzo e allora potrei aggredire di nuovo il mercato non questa ho sbagliato questa questa qui questa qui e contemporaneamente vendere una qua una 3.950 era questo qui il giochino che volevo fare 3.950 e vendo una ecco qua non ha chiuso il prezzo e mettermi in questo modo e magari alleggerire cioè praticamente facevo un rollover 3.850 da 3 diventano 2 3.850 la ricompro una per cui di fatto costruirei una situazione del genere se me la mangia ecco fatto me l'ha mangiata dove con un piccolo costo riesco a tenere alto ancora il vega sufficiente perché se io attivo la simulazione mi faccio vedere il vega come lavora se la volatilità si abbassa di qualche puntarello mi porta a target il target ve lo dico io qual è in questa posizione è 500 euro più il costo delle commissioni per cui 644 euro questa posizione siccome non la porto a scadenza ho già calcolato quanto mi costerà di commissioni sono 144 euro fatevi fare delle buone commissioni da Davide e da Stefano perché sono importanti soprattutto su sottostanti così piccoli allora Vincenzo mi scrive con vega negativo se il prezzo scende non si perde di gamma no sono gamma piatti lo vedi come sono gamma insensibili è chiaro che sono vega sensibili queste qui quindi io rimetto tutto a zero faccio vedere che il prezzo scende dici vai a zero uno due zero il prezzo mi va giù del tre quattro cinque per cento mettiamo la tre per cento una riscita del quattro per cento che sarebbe un bel ritracciamento mi può dare fastidio soltanto un cambiamento di volatilità che mi aumenta mi manda sotto la trama io qui posso rientrare al mercato con un altro spread io posso tranquillamente comprare qualcos'altro che mi copre una delle due ma qui si va sulla parte pratica che non so se può andare bene o meno qui andrei a ricomprare magari una quattro mila cento andrei a vendere una tre mila sette e cinquanta e mi posizionerei in questo modo se mi entra nell'area di valore io sono i minori dei problemi che ho non mi mangia il prezzo non me lo mangerà chiudiamo la simulazione e rimettiamo la eccola per cui mi rimetterei mi rispianerei ugualmente volendo potrei aggredirlo un po' di più magari vendendo ancora qualcosa di più lontano una tre mila cinque per dire per buttarla là così al volo metto così e sono sempre bello piatto non ho particolari problemi con un attenato del genere il gamma di posizioni così distanti è un gamma che non esiste perlomeno fino a certi a certe distanze non è che cento punti di movimento mi fanno chissà che sul gamma è una posizione che è sensibile alla greca veta la greca vega ma soprattutto a questa greca qui sotto greca di secondo ordine che è il vomma il vomma ho fatto vari articoli guardatevelo perché è la cosa più interessante che c'è per tradare le opzioni sia in calendar che in ratio spread o ladder assolutamente bene io ho terminato se non ci sono altre domande auguro a tutti buona giornata spero che sia stato interessante la prossima volta che faremo vediamo un po' che non me lo ricordo se partiamo allora sella 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 allora posizionamenti ah parleremo della volatilità questa sarà una bella una bella cosina questa qui della volatilità dopodiché affronteremo la pratica con le azioni le opzioni con l'approccio sia di base che poi quello operativo perfetto e ci rivedremo il 22 ovvero la settimana prossima di mercoledì a questo giro molto bene allora io ringrazio tutti quanti ah no ci sono altre domande fermili fermili allora grazie 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 molto chiaro perfetto grazie a voi della vostra presenza e della pazienza di essere stati qua per più di un'ora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti